Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e anche oggi nuovo video a tema Harry Potter e ragazzi abbiamo un unboxing davvero molto molto speciale perché i ragazzi di Warner Bros mi hanno mandato questo pacco e ragazzi all'interno c'è un nuovo prodotto che non vedevo l'ora di recensire e di guardare assieme a voi perché si preannuncia una vera bomba quindi direi di prendere subito il mio amato bisturi e andare ad aprire questa bella bustona che all'interno contiene ragazzi davvero qualcosa di molto molto succoso io vi preannuncio che troverete già il link sotto in info box alla mia vetrina Amazon e anche il link diretto a questo prodotto che non vedevo davvero l'ora di mostrarvi è che eccolo qui, wow, è più grande di quanto pensassi, eccola qui, si tratta di questa meravigliosa box esclusiva Wizarding World e ragazzi all'interno è incluso il cofanetto DVD con tutti i film della saga di Harry Potter, tutti e otto i film fino ai Doni della Morte parte 2 e cosa molto molto interessante troviamo in allegato l'espansione del Trivial Pursuit di Harry Potter in molti me l'avete segnalata già su Amazon e sui vari siti e mi chiedevate per l'appunto se fosse la stessa edizione di quella precedente e naturalmente ci riferiamo a questa edizione qui che vi ho già recensito sul canale e che all'epoca era anche abbastanza difficile da reperire ma che oggi si riesce a trovare con estrema facilità ebbene ragazzi posso dirvi che non si tratta dello stesso prodotto questa è una versione esclusiva, un'espansione che si trova solo in abbinamento in questa box e tenetevi forte, include ben 600 nuove domande tratte dal fantastico mondo di Harry Potter quindi ragazzi direi di andare subito ad aprire questa box e ad analizzarla più nel dettaglio ecco fatto! e ragazzi ecco qui rivelata la box sul retro ecco che abbiamo l'illustrazione del nuovo cofanetto che devo dire è molto molto bella, mi piace e poi anche la nuova versione del Trivial la scatola si apre così dal basso verso l'alto si estrae il coperchio superiore ed ecco che abbiamo qui il cofanetto il cofanetto in DVD che adesso andremo ad aprire e poi ecco che c'è il bit size del Trivial Pursuit che è naturalmente la cosa che più ci interessa eccolo qui, la confezione è diversa naturalmente questa qui è bianca con la nuova grafica che va a rivestire tutti i nuovi prodotti ufficiali del Wizarding World e naturalmente è prodotto da Hasbro Gaming apriamo il sigillo e vediamo se il contenuto è lo stesso rispetto a quello precedente il colore del bit size è differente questa volta è marrone a differenza del primo che invece era beige speriamo di riuscire a tirarlo fuori perché non sembra impresa da poco ok, eccolo qui tirato fuori e naturalmente abbiamo anche in questo caso il dado multicolor poi abbiamo una pedina che in questo caso è marrone come la scatola e in questo caso invece era beige sempre come la scatola del bit size e naturalmente eccolo qui in tutto il suo splendore sul retro c'è anche una carta top trumps credo sia un'anteprima qui abbiamo la carta di Ollivander ed è in italiano io questo gioco top trumps l'ho sempre visto solo in inglese magari hanno inserito una carta per farci capire che arriverà anche in italiano nel caso naturalmente ve lo recensirò e ne parleremo in un video apposito e poi ecco che il bit size vediamo se riesco a staccarlo eccolo qui dopo non poca fatica liberato dalle sue protezioni e vediamo cosa racchiude al suo interno naturalmente abbiamo il nuovo mazzo con le domande di Harry Potter questa volta mazzo sui toni del giallo e naturalmente abbiamo da una parte le risposte e dall'altra le domande questa volta come prima carta abbiamo lo scopo del gioco quindi abbiamo le regole del gioco che ormai naturalmente conosciamo tutti Trivial Pursuit è uno dei giochi più famosi di sempre quindi credo che non ci sia neanche bisogno di stare qui a parlarne però ragazzi io vi dirò ho giocato tante volte con la prima versione con i miei amici anche l'anno scorso durante le feste natalizie ci siamo davvero divertiti un sacco e naturalmente col passare dei mesi le domande cominciavano un po' a riproporsi quindi qualora vi fosse piaciuto questo cofanetto assolutamente da non perdere anche questa espansione così da poter dare nuova vita al gioco di Harry Potter al Trivial Pursuit con 600 nuove domande quindi naturalmente nuovi mesi di divertimento fatemi sapere se siete interessati magari facciamo un po' un excursus tra tutte le nuove domande mettetemi sotto dei commenti così nel caso dedicherò un video solamente alle domande ma detto questo andiamo ad aprire anche il cofanetto ho riempito tutta la scrivania di carte, plastica, cartoncini e robe varie sono disordinatissimo lo so ed eccolo qua liberato anche lui dal suo involucro e si presenta come una copertina in cartone un astuccio in cartone dal quale si estrae questa copertina unica quindi cosa molto positiva così è anche semplice da portare in borsa da portarselo in giro e all'interno abbiamo tutti e otto i film in DVD ed ecco qui tutti serigrafati allo stesso modo con questi toni neri che io ho già anche nella versione Blu-ray con questa serigrafia e devo dire che mi piace tantissimo semplice ma molto d'effetto e poi qui sulla parte bassa abbiamo il titolo del film con l'anno scolastico quindi qui ad esempio settimo anno a me piace tantissimo nella sua semplicità e sicuramente questo qui sarà molto molto utile nei miei spostamenti quando magari andrò a casa di amici e parenti questo qui è sempre utile averlo anche perché non tutti hanno un lettore Blu-ray e quindi mi fa piacere avere una versione DVD perché non l'ho mai avuta ne ho solamente due o tre versioni diverse in Blu-ray e poi ragazzi naturalmente a prescindere dalla saga completa abbiamo anche l'espansione l'espansione naturalmente è il top da trovare all'interno di questo cofanetto e ve la straconsiglio io l'ho già visto è disponibile già su Amazon quindi trovate il link sotto in info box e non lasciatevi sfuggire questo aggiornamento così da poter giocare ancora con i vostri amici io sono davvero super super contento e ringrazio tantissimo Warner Bros per avermene inviato una copia loro ormai sanno benissimo della mia fissazione col Wizarding World e continuano ad alimentarla e io non posso che ringraziarli di questo fatemi sapere sotto nei commenti mandatemi messaggi privati qualsiasi tipo di informazione riguardante il cofanetto sono completamente a vostra disposizione come sempre lo sapete e naturalmente ragazzi lasciate un mi piace commentate e condividete il video con i vostri amici e noi ci vediamo prestissimo con tante altre novità ciao 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 ciao